buonasera allora ci riproviamo vediamo subito se in questo momento l'audio si sente aspettiamo qualcuno perché prima ci sono stati problemi o il microfono che ogni tanto non funziona andiamo Cecilia che è la prima che guarda la trasmissione mi dice subito se l'audio si sente va perfetto grazie Giulia ok cominciamo a dire che se si sente su facebook si sente anche su youtube allora mi preparo a rispondere perfetto grazie Andrea grazie Silvia e adesso andiamo ricomincio il discorso perché ho parlato per qualche minuto da solo allora come dicevo prima ho mancato l'appuntamento della live del lunedì sera perché purtroppo ho avuto un pessimo raffreddore che mi ha bloccato e non riuscivo a parlare senza energia e per cui non ho potuto dare continuità ho messo di esserci ogni lunedì almeno per un breve per un primo periodo però purtroppo ho dovuto rinunciare alla diretta del lunedì sera per due settimane adesso vediamo di aprire subito le varie chat in modo da eventualmente poter rispondere allora ovviamente come avete visto il titolo della si beh casomai potete entrare solo su hangout non su facebook da quello che so non so se si possa condividere su facebook eventualmente anche si non c'è nessun problema allora basta che mi scrivi poi ti mando il link non c'è nessun problema allora di cosa si parla questa sera l'argomento principe di ogni volta che mi viene scritto è come organizzare un viaggio in giappone sembrerà per certi versi una banalità però ci sono secondo me soprattutto nel momento in cui ci si approccia al giappone per la prima volta molti dubbi anche se molti di quali sono inesistenti ma vengono determinati secondo me un po dai pregiudizi dei preconcetti che c'è rispetto a un viaggio e in giappone quello che ovviamente cercherò di dare le informazioni base sono per organizzare un viaggio viaggio come questo mio del 2016 di 60 giorni completamente organizzati prima per cui con tutte le difficoltà di far comprare dei trasporti delle prenotazioni di alberghi e nemmeno un viaggio organizzato come quest'anno all'ultimo momento perché ovviamente al momento in cui hai una buona conoscenza di come organizzare un viaggio in giappone è molto semplice anche prenotare di settimana in settimana o anche addirittura di giorno in giorno per cui cerchiamo cercherò di darvi secondo me i consigli più utili se volete andare in giappone non con un viaggio organizzato ma con un vostro viaggio come dico sempre non sono contrari i viaggi organizzati che hanno ovviamente un costo più elevato per via del servizio che dovete all'agenzia e soprattutto perché non perdete tutto il tempo che c'è da per comunque per organizzare un viaggio avvi andiamo ad attivare un attimo la chat qui di che mi trovo meglio di youtube beh la cosa principale secondo me nel momento in cui si organizza un viaggio soprattutto in giappone è a dia della scelta della compagnia aerea che questa non sto io a spiegarvi quale scegliere perché il consiglio che vi posso dare di scegliere quella più economica che vi fa arrivare in giappone con il meno tempo perché tenete comunque presente che ci sono 13 ore più o meno di volo e farvi non so quattro cinque ore di scala può rendere proprio il viaggio assolutamente pesante e per cui io ho un volo diretto quest'anno ho viaggiato con etihad che secondo me è un'ottima compagnia però il viaggio che si fa per arrivare in giappone abbastanza lungo ho preferito quello dell'anno scorso sono andato via a elsinki e sono poi arrivato in giappone la cosa che io consiglio è sempre di non passare troppe ore in aeroporto perché nel momento in cui avete quelle due ore di scalo sono più che sufficienti spesso e volentieri quando si prenota attraverso i siti tipo sky scanner vola gratis bisogna sempre stare attenti all'orario di alle ore in cui in cui si sta in aeroporto perché spesso e volentieri si sono voli economici ma perdete tantissimo tempo in aeroporto che dal mio punto di vista non sempre ne vale la pena ecco qui c'è la cabina di regia però al di là del del fatto in sé del del volo ok si una linea limite mi dice redazione busto web il problema è che io qui a casa mia una linea pessima sono diversi chilometri dalla centra linea più vicina e già due connessioni non so come faccia a mantenerle bene allora la cosa secondo me principale da pensare quando si organizza un viaggio in giappone è l'itinerario itinerario classico tende a essere ovviamente tokyo e kioto e la cosa che io vi posso consigliare nel momento in cui scegliete il volo è se avete la possibilità di atterrare a tokyo e ripartire da osaka dal cansa international airport o viceversa perché questo vi come si dice vi vi evita di poi far di tornare sempre su tokyo spesso e volentieri il volo che arriva su osaka o su tokyo o viceversa con una andata e ritorno diversa costa leggermente di più però dal mio punto di vista ne vale la pena anche se spendete quei 50 100 euro in più dovete poi pensare che è molto meglio avere una giornata secondo me in più tranquilla in giappone piuttosto che dover riprendere lo shinkansen per quanto sia veloce però comunque uno spostamento solo per poter tornare a tokyo e a prendere il il volo il viaggio deve essere circolare ovviamente se non c'è questa possibilità un altro consiglio che vi posso dare se arrivate su tokyo spezzate il viaggio nel senso che state un paio di giorni a tokyo in modo da prendere il fuso orario vi riposate al ritmo giapponese vi ambientate e poi cominciate con il tour e andate verso tokyo e poi fate gli ultimi giorni a tokyo in modo da soprattutto far shopping comprare souvenir tutte quelle cose che sicuramente in giappone vi volete portare a casa e ciao manuel per cui questa secondo me è da valutare sempre nella se arrivare se su tokyo e ripartire da osaka se secondo me se ne avete la possibilità fatelo perché perdete meno tempo negli spostamenti e la cosa legata sempre gli spostamenti che mi viene che è sta spesso e volentieri è il japan rail pass chi mi segue da molto tempo sa che durante i miei ultimi due viaggi in giappone non ho fatto di già fare il pass per un motivo molto semplice è una questione proprio matematico l'ho già detto tantissime volte se voi prendete il costo del japan rail pass lo dividete per quanto vi costa al giorno vedrete che comunque un prezzo elevato e se quelli in quei giorni in cui comunque attivo il japan rail pass siete fermi in una città non lo utilizzate per cui vale la pena assolutamente fare il japan rail pass se dovete prendere lo shinkansen più di una volta lo shinkansen mi pare che da tokyo a kyoto costa all'incirca 100 euro se poi dovete anche ritornare come dicevo prima e prendere altri treni forse ne vale la pena però fatte assolutamente un calcolo e viva conviene conviene solo come dicevo se prendete lo shinkansen oppure per comodità è la prima volta che arrivate in non volete avere pensieri spendete il costo del japan rail pass che in questo momento non so nemmeno a quanto sia vediamo subito che varie in base al valore dello yen japan rail pass perché ecco il japan rail pass di sette giorni costa 214 euro infatti proprio il 14 diviso 7 sono 30 euro al giorno ecco un'altra cosa fondamentale che è il consiglio che do sempre e che molti dicono ok faccio già fare il pass lo faccio partire dall'inizio così lo posso utilizzare nella linea yamanote che quella della jr la compagnia nazionale dei treni giapponesi dove funziona il japan rail pass così non ho necessità di fare l'abbonamento alla metro allora ma come dicevo prima matematica il japan rail pass costa 30 euro al giorno il abbonamento alla metropolitana costa 4 euro e 50 avete già capito che non conviene assolutamente far partire intanto il japan rail pass mentre siete siete a tokyo un'altra cosa arrivate a osaka uno può dire faccio partire il japan rail pass da quando arrivo a osaka per andare poi a chioto ok il japan rail pass costa 30 euro al giorno l'abbonamento degli autobus giornalieri a chioto mi pare costa neanche 1000 yen credo siamo intorno ai 5 6 euro come vedete come non vale assolutamente la pena vale la pena nel momento in cui lasciate chioto o chioto e cominciate il vostro tour e avete la necessità di prendere lo shinkansen nei miei viaggi attraverso il giappone con i treni locali sono ovviamente più lenti sono molte più formate non ci sono posti prenotati perché sono sempre andato a risparmio io raramente ho speso 30 euro per un giorno di treni ho speso sempre meno per cui valutate bene la scelta del japan rail pass vediamo se intanto ci sono domande allora visto che sì visto che parliamo anche di mezzi qua ivano mi chiede per visitare la zona lo caido se utilizzare l'auto allora io non ho utilizzato l'auto e infatti mi sono formato praticamente a sapporo perché senza auto con i mezzi pubblici diventa molto più difficoltoso visitare lo caido se se siete in più di una persona sì vi dividete la spesa perché comunque l'auto costa mi pare all'incirca 50 euro al giorno credo all'incirca mi hanno anche spiegato che c'è la possibilità di noleggiarle per qualche ora non solo non solo per tutti per tutto il giorno intero però sono cose che non ho mai utilizzato perché queste sono cose che mi hanno raccontato in giappone sì per visitare lo caido si proprio dovete mettere a budget l'auto tenete presente che mi hanno già detto chi ha noleggiato l'auto che comunque le autostrade sono costose tenete presente che i parcheggi nelle grandi città sono costosi per cui dovete assolutamente secondo me anche se utilizzate l'auto avere bene le idee chiare dove andate se andate nei paesi sperduti dell'hocaido non credo ci siano grossi problemi di parcheggio non ti so dire se sono strade a pagamento quello dovete assolutamente informarvi perché non va oltre al costo del noleggio e della benzina va a incidere anche l'autostrada e il parcheggio un'altra soluzione che potrebbe essere potreste utilizzare per spostarvi attraverso il giappone soprattutto se fate un tour classico che da tokyo avete necessità non so ad arrivare a chioto è utilizzare gli autobus notturni gli autobus notturni hanno un prezzo assolutamente più economico vi dico anche questo i costi che posso trovare qui sulla compagnia andate sul sito wheeler express allora come sono gli autobus notturni mi dice che da tokyo a chioto si parte da 3000 yen per cui 7,8,21 all'incirca 24 euro siamo già meno del di un giorno di già fare il pass come sono gli autobus ovviamente dipende da quanto spendete perché un tokyo osaka da 3000 yen ha un livello di comfort quelli più costosi hanno dei sedili molto più confortevoli sono comunque fatti in modo per riposare per cui il sedile si distende molto ci sono quelli che ti danno anche la coperta le ciabatte vi danno c'è il parocchi per non essere disturbati dalla luce comunque l'autobus notturno viaggia al buio dormite ogni tanto si fermerà al diciamo gli autogrill per darvi la possibilità di andare in bagno o comunque di mangiare qualcosa se avete bisogno io faccio una fatica terribile a dormire però è una soluzione economica c'è chi dorme tranquillamente potete assolutamente valutare se il vostro viaggio arrivo su Kyoto su Tokyo non sono viaggi di 10 giorni arrivo su Tokyo e finisco a Kyoto ho un unico spostamento ho solo le due grandi città e i dintorni dal mio punto di vista si può rinunciare al già fare il pass e prendere direttamente un autobus notturno per cui il budget ovviamente da spendere 100 euro di Shinkansen arrivate a spenderne 30 euro all'incitata questo vi permette assolutamente di abbassare i costi ovvio non arrivate a Kyoto in un'ora e un quarto non è mezza con la Shinkansen ma ci arrivate in 6-7 ore partirete praticamente alle 10-11 di sera per arrivare a Kyoto alla stazione centrale verso le 6-7 anche qui io vi consiglio di partire il più tardi possibile per arrivare o viceversa a un orario diciamo decente nel senso che non può non alle 5 di mattina ma piuttosto alle 6-7 in modo che comunque c'è un po' di vita trovate qualcosa aperto cominciate a muovermi è già diverso che arrivare alle 5 con il buio anche se siamo nel paese del sol levante però è tutta un'altra cosa però secondo me è una soluzione assolutamente interessante per poterli risparmiare sul trasporti perché abbiamo detto già per il pass sì se dovete utilizzare la Shinkansen e se avete più spostamenti vi fate un calcolo se volete sapere quanto andrete andreste scusate a spendere vi consiglio di guardare sul sito Iperdia se in caso mai avete bisogno mi iscrivete oppure in caso mai ho il link su YouTube Iperdia è il sito ufficiale che vi dà le tariffe dei vari i vari le varie tratte le varie possibilità e così vi fate un calcolo vi mettete un foglio scrivete poi fate un calcolo se secondo voi vi vale la pena oppure no di prendere lo Shinkansen e se vale la pena di farlo già fare il pass vi arriva con il voucher a casa direttamente e poi quando arrivate in aeroporto alla stazione centrale di Tokyo di Kyoto dove siete andate all'ufficio JR potete cambiarlo io vi consiglio di farlo direttamente in aeroporto così vi levate il pensiero la dite il giorno in cui deve essere attivato e basta rispondo un attimo alle domande qui tanto per non lasciarle indietro allora Ivana Sara mi chiede io dovrei partire con Ivana vorremmo andare a vedere le distese di lavanda e qualche piccolo villaggio rurale in quanto andremo molto probabilmente ad agosto a causa di impegni e la zona dei villaggi dove ci sono le distese di lavanda era una delle mie mette dell'anno scorso però l'ho trovata abbastanza complicato arrivarci c'erano dei viaggi organizzati che partivano da Sapporo per arrivarci dal mio punto di vista erano troppo costosi per il mio budget di viaggio e poi erano comunque dei viaggi organizzati serrati si passava partiva da Sapporo si arrivavano non mi ricordo i nomi dei villaggi si visitavano le fattorie poi si ritornava poi comunque alla fine del viaggio all'incirca arrivavano attorno al 46esimo non c'è non sbaglio il 47esimo giorno di viaggio ero abbastanza stanco in quel periodo là per cui ho rinunciato una cosa che mi chiedevo è come si arrivi in Occaido a questo punto è necessario fare il Japan Rail Pass noi sinceramente non volevamo farlo perché alloggiare comunque si stava a me ok allora io l'anno scorso per arrivare in Occaido non ho fatto il Japan Rail Pass ma ho fatto il Japan East Pass se non sbaglio se si chiama è il Japan Rail Pass solo che viene si può utilizzarlo se non sbaglio per 6 tratte significa che lo puoi utilizzare 6 volte sulla linea JR per cui io gli ho preso da Sendai lo Shinkansen che mi ha portato a a Codate la stazione Shin a Codate che è la nuova stazione c'è il nuovo Shinkansen la nuova linea e per cui dal mio punto di vista avevo fatto un calcolo quanto mi costava arrivarci con i mezzi normali poi devo prendere la nave che mi portava da una parte all'altra e poi ho pensato ai spostamenti in Occaido ho trovato più conveniente trovare quel tipo di Japan Rail Pass che è un pass regionale sarà la valenza di una settimana questo devi guardare sul sito ufficiale del Japan Rail Pass però potresti valutare di utilizzare questa alternativa qui perché oltre al Japan Rail Pass che permette di prendere tutti i treni della compagnia JR sul territorio nazionale del Giappone ci sono anche quelli regionali che ti permettono di visitare e di prendere i treni della JR in determinate zone nel Kansai se ne ho sbaglio nel Nonshu ce ne sono vari ce ne sono diversi per cui anche qui valutate sempre quello che vale la pena per voi consiglio come dico sempre cercate sempre di calcolare quanto vi fermate su una città e se vale la pena che se quel giorno il Japan Rail Pass sia attivo perché se no è più interessante avere una soluzione che io posso attivare a spot in base allo spostamento semplicemente se si fa questo Giappone e Pass ha una serie di timbri nel momento in cui io passo loro fanno un timbro finito gli spazi è finita anche la possibilità di utilizzare i pass mi sembra però che abbia una valenza anche di tempo questo dovete guardare assolutamente sul sito ufficiale guarda dipende se Sara mi chiede sarebbe un prezzo davvero spropositato anche se le tratte che ci eravamo prefissate erano Tokyo Kyoto Hiroshima restare una notte a Miyajima allora dipende sempre quanto tempo vuoi dedicare al viaggio nel senso che se hai poco tempo con un viaggio così o vi prendete tutti i autobus notturni anche quello che da Kyoto va a Hiroshima ma mi sembra che sia abbastanza lunga come cosa però potete valutarlo perché se no in questo caso qui se avete giorni potete prendere i treni locali e arrivare a varie etappe intermedi in modo da non passare giornate intere nei treni oppure credo sia la soluzione conveniente più conveniente non a livello economico ma a livello di tempo prendere il Japan e il pass qua dipende sempre quanti giorni avete qui l'ho letto ad agosto quanti giorni avete se avete tanti giorni come potrebbero essere tre settimane potete infilarci dentro qualche altra mette intermedia prendete i treni locali non fate il Japan e il pass però se poi mi dite che dovete andare in Hokkaido allora qua un mese beh Ivano mi dice un mese allora io qui un mese evitate il Japan e il pass e andate di treni locali fate un bel tour allora e qua Sara mi dice ma a me gli autobus fanno un po' paura in quanto dovremmo portarci le valigie a seguito non ho paura di cosa non capiscono gli autobus sono gli autobus di deluxe hanno l'opposto e sotto come tutti gli autobus come i nostri non sono gli autobus di linea ma sono gli autobus veramente a lunga percorrenza e non vi fregano le valigie siete in Giappone anche perché è responsabile l'autista per cui vi danno il numero eventualmente che è attaccato alla vostra valigia se proprio non volete portarvi le valigie a presso vi posso dire che in Giappone esiste un servizio che va pagato ovviamente che però viene a prendere le valigie in un albergo e ve le porta alla prossima tappa praticamente no ma da mio punto di Sassara che dice che ha valigie incompranti insomma io avevo due zaini uno stava sotto e uno più più piccolo ce l'avevo sempre su quello con l'attrezzatura fotografica dal mio punto vista non è un problema però come ti stavo dicendo al massimo se proprio hai paura lo fai spedire a me è capitato quando ho fatto la traversata del mare interno in bicicletta e ho fatto spedire il ho fatto spedire il mio zaino da un amici se non sbaglio da un amici si da un amici si da un amici direttamente a Matsuyama se non sbaglio e mi è costato se non ricordo male 1400 yen che sono all'incirca 10-11 euro e mi ha salvato la vita perché fare 75 km sotto un sole corcente anche con 10 kg di design non sarebbe stato il massimo per cui le soluzioni per i spostamenti come dicevo autobus treni e qui valutate voi in base a quello di cui avete bisogno quale è la soluzione migliore per spostarsi ripeto non fate l'errore di di attivare il già fare il pass nelle grandi città come Tokyo e Kyoto è una spesa sono soldi buttativi assolutamente vediamo di qua Silvia dice sito fantastico per dia esatto vi da le informazioni per i binari per le informazioni per come spostarsi ciao Deborah cosa dice sempre Sara allora non credo che lo leggeremo in hotel ma prenderemo qualche appartamento su RBB perché saremo in tre per quanto riguarda gli alloggi è un'altra domanda nel senso che qua apriamo l'altro capitolo ne ho già parlato di welcome to già Polania ma ne parliamo anche questa sera visto che parliamo di tutta la parte organizzativa allora come scegliere dove dormire allora dormire in Giappone è ci sono ovviamente tantissime scelte partiamo subito da un presupposto tutti gli alberghi ostelli guest house hanno dei livelli di pulizia che sono assolutamente alti non ho mai trovato ostelli che si può dire sporchi ovvio in certi c'è tanta gente per cui non non si può pretendere la pulizia perfetta i bagni quasi sempre se non sempre erano in perfette condizioni per cui se andate dal business hotel che è di solito quello più economico che se siamo intorno ai 40 euro a notte fino a l'ostello che ha speso meno 9 euro di una notte nel quartiere più malfamato di di Osaka di cui parleremo prossimamente comunque livello di pulizia impeccabile per cui le soluzioni che potete adottare adottare in Giappone per dormire sono diverse si fa dal hotel classico quello che si può trovare in qualsiasi città del mondo con i suoi costi a business hotel scendendo sono hotel pensati soprattutto per uomini d'affari per cui hanno una serie di servizi legati all'uomo d'affari che può essere distributore automatico di ramen per farsi la barba distributore automatico di tessere per guardarsi film porno va bene anche quelli dalla lavanderia eccetera però la francese tenete presente che i letti i giapponesi le camere dei giapponesi sono piccole perché hanno dei standard molto più piccoli rispetto ai nostri però sono comodi sono costosi non sono nulla di speciale ve lo dico già i business hotel sono anonimi però se dovete solo dormire e non volete andare a un livello più basso il business hotel è una buona soluzione scendiamo possiamo arrivare alla guest house di solito le guest house sono simili agli ostelli hanno pochi comunque posti letto sono spesso e volentieri case tradizionali e per cui le guest house dal mio punto di vista sono molto interessanti con i tatami non sempre si dorme sul letto a castello in certi casi si dorme proprio sul tatami ci sono delle camerate con il tatami credo che al massimo si dorme in 8 10 persone da fare più grande in una stanza bagno spesso l'interdizionale con la vasca in comune qualche volta oppure con la doccia come qualsiasi altro ostello però come sempre si toglie le scarpe quando si entra con tutto quello che è la tradizione giapponese per cui è una cosa molto interessante ce ne sono diversi vi consiglio anche qui di cercare quelli che attraverso booking o i siti di pronotazione trovate che siano tendenzialmente tradizionali perché è una bella esperienza poi si arrivano i classici ostelli anche qui però potete trovare ostelli in stile proprio occidentale come potete trovarli anche qui in Italia ovviamente con dei standard di pulizia come dicevo prima alti o ostelli a una guest house con molto più spazio molti più posti letto però con tutta la parte tradizionale per cui le scarpe si lasciano fuori vi danno le ciabatte non dico che dormite per terra però può capitare di letti a castello con il fruton ci sono delle vie di mezzo dall'ostello classico all'ostello un po' più tradizionale anche qui valutate sempre sul quando fate la pronotazione e poi ci sono le cose dove dormire uniche del Giappone allora partiamo da i capsule hotel capsule hotel che avete visto nelle mie foto sono famosi in tutto il mondo vengono definiti come hotel l'oculo ma in realtà dal mio punto di vista non è proprio un loculo ovvio se soffrite di claustrofobia qualche problema ve lo può dare ma io la soluzione che ho sempre trovato è dormire con la testa verso l'uscita e tenere comunque la tenda su in modo che comunque l'aria circola qui i capsule hotel sono spesso volentieri o solo per solo uomini o con piani separati per uomini e donne vi danno la vostra chiave il vostro armadietto le vostre ciabatte il pigiama perché sono pensati comunque per persone che finiscono tardi di lavoro e non riescono a tornare a casa perché hanno tutto quello che gli può servire quelli più moderni hanno semplicemente la doccia altri ed ovviamente doccia e bagno doccia altri ma di solito c'è anche scritto hanno bagno tradizionale per cui c'è la grande stanza in cui ci si lava ci si lava seduti lo sgabbello come vedete in manga e anime si lava per bene poi si fa ci si rilassa nella vasca comune ma di solito questo è specificato capsule hotel poi ci sono il love hotel io non ho ancora ho avuto il piacere di andare in un love hotel da quello che ho potuto leggere al di là della formula love per cui pensate per le coppiette che vanno a ore eccetera da quello che ho potuto capire e leggere hanno comunque delle formule di pagamento anche di una notte intera si possono anche pronunciare su booking ho visto hanno un prezzo un po' più elevato dei business hotel ma da quello che ho potuto vedere e capire hanno delle stanze molto più grandi rispetto a un business hotel molto più curate e ovviamente per motivi ovviamente ovvi spesso e volentieri sono anche a tema con gadget vari di cui vi lascio la vostra fantasia però potrebbe anche adesso questa è un'altra esperienza assieme al capsule hotel da provare ovviamente se viaggiate da soli non credo che sia la soluzione migliore andare in un lavo hotel però se trovate compagnia potrebbe essere una soluzione interessante del Giappone che si può solo fare in Giappone è la dormire in una ryokan la ryokan è la tradizionale lokanda giapponese stile di legno tatami futon spesso e volentieri con il taurino basso tutto quello che avete mai sempre visto del Giappone tradizionale lo potete vivere ovviamente ha dei costi un po' più elevati rispetto a un hotel tradizionale è un hotel normale però è un'esperienza sicuramente da fare spesso e volentieri anche in questi casi hanno pochissime stanze per cui nel momento in cui valutate di andare in Giappone volete fare questa esperienza nel momento in cui avete l'itinerario pronto una delle prime cose a prenotare sono le ryokan che hanno pochi posti soprattutto fuori dalle delle grandi città però potrebbe essere una grande una grande idea di esperienza ciao Claudio e con Claudio nel prossimo viaggio qui ad aprile dormiremo in un'altra soluzione che è unica in Giappone dormire in un monastero anche questa si può fare in pochi luoghi del Giappone tipo il Monte Koya Koya San però anche questa secondo me è un'esperienza da fare un'esperienza costosa perché una notte in monastero costa però vi danno la colazione volendo anche la cena tipica dei monaci avete la preghiera al mattino presto è comunque un'esperienza unica che potete valutare di fare ne vale secondo me dal mio punto di vista la pena e queste secondo me le soluzioni allora soluzione sì qua mi danno anche lo spunto Ivano mi dice hai mai provato a fittare una camera a casa con Airbnb allora ok ti rispondo allora sì ho anche dormito allora quest'anno ho prenotato una volta solo su Airbnb invece l'anno scorso un paio di volte allora la soluzione non è male io ho comunque sempre prenotato fuori dalle grandi città e mi sono trovato sempre assolutamente bene ho dormito una volta a Cove e qui è stata la prima volta che in vita mia ho dormito in un luogo prenotato attraverso Airbnb e mi è andata anche molto bene a dire della difficoltà di trovare il posto in quel caso lì dormivo praticamente a Cove su un grattacielo di fronte all'oceano una vista bellissima e una cameretta normale perché era della figlia della coppia che mi ha affittato il posto l'unico problema che ho avuto era trovare l'appartamento perché era ovviamente un grattacielo e non capivo assolutamente loro parlavano picchissimo inglese come arrivarci ma al di là di quello poi ho dormito a casa di una signora anziana a Nagoya anche quella è stata una bella esperienza perché era la classica casa giapponese come la immaginiamo con il giardino all'interno c'era perfino l'altare del marito che era morto tutto in tatami non era pulitissima perché non dovete pensare che gli standard a casa dei giapponesi siano così alti come negli alberghi però insomma all'area di quello insomma non era la mia stanza era pulitissima però è stata una bellissima esperienza perché poi dipende sempre le persone che trovi di solito sono molto molto disponibili disponibili per cui anche invece quest'anno ho dormito su un appartamento sempre prontato su Airbnb non è che mi sia trovato benissimo questo non era al massimo come pulizia però ho intravisto su due notti tre notti una volta il proprietario e vabbè nel senso che poi dipende sempre non si può giudicare solo dalle mie esperienze sì è una soluzione anche quella a Tokyo e Kyoto non so che ci sono diverse soluzioni anche attraverso Airbnb spesso e volentieri però chi offre stanze nelle grandi città soprattutto su Tokyo non è giapponese ma è cinese però al di là di questo non è non è un problema nel senso che probabilmente hanno anche formato hanno questo business di prenotazioni di appartamenti però insomma al di là di questo non ok consigli di qualche Rio Can per il Rio Can io ne ho saggiornato una a a a a Macome che hanno fatto la il percorso a piedi tra Macome e Tsumago e poi un'altra Tsuhano ma quella non era nulla di speciale ci sono diverse a Kyoto però non ho mai soggiornato a Kyoto in Rio Can caso mai se avete mi mandate il perché non mi ricordo i nomi ho consigliato attraverso chiedendo agli amici di Kyoto una Rio Can a Kyoto degli amici però non mi ricordo il nome casomai mi iscrivi via facebook e vedo di tirarlo fuori eventualmente poi si va bene per una notte una vacanza ma tutta una soluzione non da hotel è pesante anche Airbnb può fare per risparmiare non sempre ma per chi resta in Giappone più tempo delle classiche due o tre settimane sì per una vacanza classica che magari uno fa una volta la vita è meglio un hotel o sbaglio sì e no nel senso che dipende sempre dal budget che uno ha io il primo viaggio l'ho fatto quasi esclusivamente in hotel a parte il monastero e poi così rispondo anche a Giulia monastero e la Rio Can il primo viaggio ho fatto tutto in hotel maggior parte tutti business hotel dire la verità sì però non dobbiamo pensare ad hotel con i nostri standard di dimensioni non so se andate a un alberghi a 4 5 stelle come sono le dimensioni di una stanza però nelle stanze normali di un albergo normale business sono veramente minuscole minuscole c'è il letto c'è il bagno è a malapena ci si può girare attorno al letto ma a malapena per cui sì poi dipende sempre del budget che uno ha per cui io quest'anno a un certo punto ho proprio avuto la necessità di una stanza singola perché dopo 40 giorni che dormi sempre con qualcuno sì hai la necessità anche di un po' di privacy un po' di silenzio assolutamente da questo punto di vista qua per il primo viaggio sì hotel rio can monastero e capsule test se proprio si vuole fare l'alternativa Giulia mi chiede dove ho prenotato il monastero il monastero l'ho prenotato su Booking se vai a cerchi Koya San su Booking trovi una serie di monasteri anche lì non hanno tantissime stanze per cui bisogna prenotarle in anticipo le soluzioni più tradizionali bisogna sempre tener conto di questo fattore qui che non sono così numerosi posti letto che hanno allora abbiamo parlato di spostamenti abbiamo parlato di dove dormire e spesso i venti aerei quando si organizza un viaggio uno dei dubbi maggiore che una persona ha è il costo il costo del Giappone quanto è caro il Giappone e questa è una domanda a cui ogni volta rispondo e tutti rimangono stupiti per chi soprattutto non ha mai pensato di andare in Giappone quanto costa il Giappone allora per il dormire vi ho già detto si va dai 40-50 euro di un business hotel ai 13 euro di un posto letto in in ostello io ho speso anche meno 9 euro ma di quella esperienza ad Osaka parlerò in maniera più ampia in un altro video per cui il range di costi potrebbe essere questo come dico spesso poi c'è la questione colazione la colazione come sempre butta su tantissimo il costo dell'albergo dal mio punto di vista ci sono diverse soluzioni andate a mangiare un caffè spenderete 4-5 euro credo per una colazione o fate come me ogni mattina andate al combini più vicino vi prendete una lattina un caffè un succo un bignè un dolce con 200 yen 300 massimo 400 yen che sono 7-14 con 2 euro all'incirca fate colazione vai Alessandro la domanda fatti risponda alla domanda Alessandro che è una domanda interessante che vorrei poi rispondiamo anche ad Alessandro per cui la colazione secondo me potete anche evitare di farla includere nel nel costo dell'albergo ovvio che se andate a Starbucks ogni tanto andavo anche io a Starbucks per rilassarmi e bevare di solito andate a spendere 500 yen 400-600 yen 5-6 euro però qual è il costo della vita del Giappone vi ho spiegato i trasporti gli abbonamenti vanno dai 4-5 euro al giorno e i spostamenti in treno va ai 100 euro treno locale non più di 10-15 euro il cibo ecco questa è la domanda fondamentale del cibo il cibo allora un piatto di ramen prezzo medio è 500-600 yen che sono all'incirca 3 euro e 50 4 euro 5 euro 6 euro 7 euro di un piatto di ramen di quelli speciali pieni di roba mangiate con media 5-6 euro io credo di aver speso raramente più di a pasto raramente ovvio che anche qui dipende sempre da voi però anche se andate nei centri commerciali dove tutti i centri commerciali hanno un piano dedicato alla ristorazione vedrete che anche lì si può andare della carne di cove costosissima al ramen da 600 yen a katsu don che è la cottoletta fritta impanata con un riso con qualche altra cosa tipo può essere non so del tofu o delle radici dei funghi eccetera eccetera 1000 yen 900 poi se andate a pranzo hanno dei menù da pranzo completi che costano ancora meno per cui mangiare in Giappone non costa tantissimo il sushi il sushi dipende potete andare dai 400 euro da giro ai 130 yen a pezzo che è sono un 130 yen siamo all'incirca un euro a piattino lo potete trovare anche a meiaio coccio vicino a Ueno dove sono andato un paio di volte il sushi discreto col kaiten che gira col kaiten che gira 130 yen ogni piattino me ne fate fuori 10 sono 1300 yen siete pieni avete speso 10-12 euro volete esagerare andate da sushi zammai ad esempio alzate la qualità e spendete se non esagerate 1500 yen 1700 per cui 20 euro massimo anche se mangiate sushi potete assolutamente rimanere sono uno standard da molto molto economico mangiate se pensate potete mangiare a pranzo con 5-6 yen non succede nemmeno in Italia almeno qua in Veneto poi ovviamente se volete sperimentare carne di cove quello che volete non so sushi più privati pezzi di tonno i tagli di tonno più costosi allora insomma ognuno fa le proprie scelte però io vi do a grandi linee un massimo di spesa le entrate agli musei dipende si va dai 1000 yen a vedere un castello costa di solito 400-500 yen certe cose sono gratuite molti templi sono anche gratuiti per cui anche quello la cosa che va a più incidere secondo me di un viaggio in Giappone sono i trasporti i trasporti la metropolitana e i treni quello va a incidere molto molto sulla sul costo di un viaggio in Giappone qui Sara beh Sara mi dice non dimentichiamaci lo street food insomma la street food anche lì siamo 100-200-300 yen dipende da quello che mangi ma non vai oltre 300 yen 200 yen dai l'euro 2 euro insomma e non possiamo non parlare di distributori automatici con le bibite più assurde che trovate solo in Giappone che vanno dai 100 yen 110 yen di una bottiglia da 60 di acqua ai 150 yen 160 yen per le bibite più strane per cui stiamo comunque parlando un euro un euro di 10 ecco se andate ad agosto berrete un sacco d'acqua quello sono più o meno i costi che avete per mangiare dormire e mangiare le entrate ai musei le entrate ai palazzi poi là ovviamente uno valuta ovvio che essendo poi in Giappone la cosa che andrete sicuramente a spendere tantissimo sono in gadget ma è quello io non posso preventivare la vostra sfesa da quel punto di salire allora rispondo ancora a Sara e poi rispondo anche a Alessandro allora Sara mi chiede possiamo ritrovare un attimo sui abbonamenti per la meta dove si fanno in qualsiasi stazione allora e so che esistono le carte prepagate allora le carte prepagate sono queste una è questa e questa è l'altra che ho fatto l'anno scorso te sarai i coca ce l'hai coca la pasmo la suica allora però qui chiariamo uno dei tanti dubbi scusate che fanno moltissimi che mi che leggo sempre fatte quando vi chiedono informazioni sulla metropolitana tutti rispondono fate la carta no se prendete la metropolitana gli autobus non fate la carta la carta non dà nessuna nessuna scontistica nessuna significa che voi caricate mille e pagate interamente ogni tratta è comoda certo perché la passo e si scala però voi alla fine della giornata avete speso sicuramente più dell'abbonamento perché questa è comoda se viaggiate come me prendete un sacco di treni locali la caricate non so con 5.000 yen non dovete stare lì a calcolare ogni volta quanto è il biglietto la passate quando arrivate alla vostra stazione di destinazione la ripassate e si scala se non avete se non avete soldi o se non bastano prima dell'uscita c'è sempre una macchinetta per poter ricaricarla oppure per vedere il saldo ma non fatela pensando di risparmiare mi fa solo spendere non dico di più ma gli abbonamenti come mi chiedi te si fanno alle macchinette automatiche quelle di un giorno allora sulla metropolitana di Tokyo trovate in tutte le stazioni ci sono le macchinette premio la lingua inglese ci sono le varie forme di pagamento e troverete non ricordo la dicitura perfetta per la carta vedrete e danno anche eventualmente questa se vuoi farla però per l'abbonamento giornaliero adesso da qualche anno c'è anche l'abbonamento a tre giorni allora l'abbonamento a tre giorni non si fa in tutte le stazioni della metropolitana si fa mi pare nelle stazioni centrali e non so se si fa aiuto basci camera che è una catena di negozi elettronica comunque trovi informazioni sul sito ufficiale della metropolitana di Tokyo e poi di solito io consiglio di fare soprattutto di fare l'abbonamento per solo la linea della metropolitana la metro perché poi da Tokyo c'è la metro c'è la Tobu che è un'altra compagnia e poi c'è anche la Yamanote per cui ci sono varie forme di abbonamento la metropolitana raggiunge più o meno tutti i punti di interesse ci sono certi che non si riescono a raggiungere qui in caso fate il biglietto in più però non fate l'abbonamento completo ovvio che tanti mi dicono sì ma con la metropolitana si fa tanto tempo sotto terra è vero invece con la Yamanote line è in superficie e si vede di più valutate anche voi questa cosa qui però con la metropolitana 5 euro al giorno girate tutto Tokyo e tutto Tokyo a menti e invece a Kyoto l'abbonamento per l'autobus che si può fare in stazione centrale si può anche chiedere all'autista nel momento in cui scendete gli chiedete il one day pass e se ce l'ha ve lo dà e lo fa usate quello se no pagate la corsa Alessandro mi fa una domanda particolare tanto come sto abbastanza bene rispetto alle settimane scorse mi chiede sai qualcosa riguardo i droni e le leggi che riguardano essi? eh in Giappone non è così semplice volare con il drone da quel che so soprattutto soprattutto nelle zone futuristiche mi ricordo che al Kinkakunji il Tempio d'Oro a Kyoto c'è proprio il cartello prima di entrare no selfie stick e no droni per cui bisognerebbe capire in che zone della se prese secondo me a Kyoto rischi a Tokyo secondo me di sera non rischi un po' meno anche se da quel che so non è che si possa tanto volare se vai non so in Hokkaido nei paesini come ho fatto io se avessi se avevo il drone sicuramente non avrei avuto grossi problemi infatti infatti mi sembra non dico che mi piacerebbe avere il drone perché insomma sarebbe un'altra cosa da trasportare però un Spark sì ecco è una delle cose che sto valutando però non ci sono delle no fly zones come dici te sicuramente sì infatti ho capito che Tokyo è no fly zone mi pare proprio di sì poi ho visto riprese con i droni su Tokyo non è che è sempre tu rischi e pericolo tieni presente lo sai bene che in Giappone la legge va rispettata perché se no non è che siamo in Italia che chiudono un occhio anzi a proposito lo ripeto sempre ricordatevi sempre che in Giappone girare per strada senza un documento senza passaporto in questo caso è reato se vi fermano non avete il passaporto dietro finiti in cella fino a quando non capiscano chi siete ricordatevi sempre il passaporto però secondo me anche nelle zone locali dove sarebbe avuto sarebbe stato veramente bello avere il drone nelle zone del vulcano sì secondo me sì se valuti le zone certe zone dopo dipende che drone hai perché credo che con Mavic o con uno Spark riesci anche a a fare qualcosa di interessante che è qualcosa di più grosso e più però bisogna sempre valutare però vediamo se da qui al prossimo viaggio che farò con con Claudio ad aprile mi verrà l'idea di prendere un piccolo drone ti saprò dire al massimo io appunto ho uno Spark e sono in paranoia totale come dici te volevo farmi qualche giro in zona più tranquilla sì infatti se vai prima di me in Giappone fammi sapere se ti arrestano così così almeno lo so lo Spark forse essendo piccolo sembra più un giocattolo credo poi io ho sempre il dubbio della qualità delle immagini guardo dovresti dirmi Alessandro com'è la qualità dello Spark perché vedo cose discordanti bene dell'organizzazione del viaggio credo di aver detto le cose più basilari trasporti cibo come dormire le mete le mete allora potremmo aprire un capitolo credo che ne parlerò nel prossimo video ma possiamo anche anticipare un paio di cose poi chiudiamo perché ormai hai già 57 minuti ho sempre detto queste live dureranno all'incirca un'ora un'ora e dieci allora l'itinerario l'itinerario che io consiglio sempre anche se mi conoscete sapete che io ho viaggiato in lungo e largo in Giappone nei luoghi più sconosciuti almeno la prima volta ovviamente Tokyo Kyoto non può mancare Kyoto non può mancare quanto tempo dedicare a una e quanto tempo dedicare all'altra questa è una bellissima domanda a mio gusto personale dedicate più tempo a Kyoto che a Tokyo perché io ho un amore e odio per Tokyo dal mio punto di vista c'è molto più molte più cose da vedere a Kyoto non disdegno il fascino futuristico e metropolitano di certe zone di Tokyo ma come se avete visto l'ultimo video che ve lo consiglio vivamente è quello su Yanaka una delle zone più belle che ho scoperto di di Tokyo potete fare un viaggio nel Giappone nella Tokyo di una volta ecco anche questi volti Tokyo per cui tanto tempo minimo tre giorni a Tokyo minimo quattro a a Kyoto cinque Kyoto talmente tante cose ok e poi siete a Tokyo andate a vedere almeno Kamakura se riuscite Nicco una sera a Yokohama perché il lungomare come si chiama Minato non ricordo più non mi ricordo più no Minato Mirai futuristico di Yokohama è bellissimo da Tokyo potete andare a Kawagore e a Kyoto a Kyoto ci sono infinita di cose da vedere caso mai ovviamente ne parleremo in maniera più approfondita città per città però anche da Kyoto una visita a Fujiminary una visita assolutamente a Nara e poi molti da Tokyo vanno a Hiroshima per fermarsi e Miyajima e poi ritornare qui apro una piccola parentesi minato Mirai hai ragione più o meno mi veniva il nome Alessandro lungomare di Yokohama qual è secondo me allora Hiroshima per il museo della pace è una esperienza che prima o poi bisogna fare se andate in Giappone per capire cosa veramente è stata la bomba atomica ok dormire a Miyajima è una delle esperienze più belle che ho fatto in tutti i viaggi che ho fatto in Giappone però è anche vero che dipende da quanti giorni avete io consiglio sempre ho consigliato anche i miei amici se avete non tantissimi giorni evitate di farvi tantissime tape concentratevi su Tokyo Kyoto ed intorni volete fare qualcosa di alternativo piuttosto di andare a Hiroshima a Miyajima nel primo viaggio non so andate a Koyasan in un monastero una notte fate il Nakasendo l'antico percorso postale che da Magome va a Tsumago che è un'esperienza ancora bellissima e a Magome avete la possibilità di dormire su una rio canna ci sono tantissime cose che potete fare potete stare a Lacone per vedere anche Monte Fuji a distante però cercate secondo me di non disperdere tempo in tanti spostamenti perché le cose da vedere a Tokyo a Kyoto sono talmente tante e nei dintorni che in 10 15 giorni non dico che riempite tutto il viaggio però potete assolutamente riempirlo se mi seguite ve lo dico spesso cercate se potete di mettere una tappa alternativa di quelle fuori dalle mette più turistiche ne avete ormai 60 video di mette alternative potete scegliere credo che prima o poi farò anche delle playlist divise per zone del Giappone in modo da darvi anche un aiuto questo per poter vedere anche un Giappone diverso però concentrate e se concentrate ovviamente potete anche fare a meno del Giappone e il pass tutto qui Alessandro mi dice se può essere utile il video in 20 giorni di viaggio feci Tokyo Nikko Kamakura Yokohama Kyoto Osaka Hiroshima e Miyajima tenendo come base Tokyo e Kyoto sì però qua io se io ho 20 giorni una notte a Miyajima la faccio e faccio anche una o due notti a Nikko quest'anno a Nikko sono stato se non ricordo male tre notti e anche i dintorni sono interessanti interessanti e soprattutto perché adesso Nikko è straffollata di di turisti e invece di sera come sempre cambia atmosfera vedrete vedrete chi lo sa quando lo vedrete ma nel video del 2017 che vedrete probabilmente nel 2018 vedrete Nikko di sera sì ma anche Kamakura anche Kamakura io ci sono stato una notte un bellissimo stella anche quello fantastico tradizionale e per cui ve lo consiglio eventualmente mi iscrivete e vi do il nome gatto questa secondo me non fate l'errore che fanno in molti che dicono se il primo viaggio in Giappone voglio vedere il più possibile e si riempiono di cose da fare poi dovete capire come ci si muove anche se non è così difficile capire come si prende i treni deve anche ambientarsi gustarsi apprezzare la apprezzare le l'atmosfera giapponesi i ritmi giapponesi sia quelli più estremi che quelli più tranquilli e i silenzi perché quando costruite un viaggio da prendetelo con molta molta calma bene credo che per questa sera io ho già parlato anche troppo abbiamo superato ormai l'ora nonostante l'impasse dell'inizio che altro dirvi allora questa è la prima parte la prima parte il primo video dedicato a come si organizza il viaggio poi se come vedete se ci sono domande io rispondo se da queste domande poi posso prendere anche spunto per eventuali altri argomenti argomenti credo che le prossime volte mi dedicherò principalmente a le due grandi città Tokyo e Kyoto e poi se avete curiosità informazioni che volete in particolare su determinate zone del Giappone che volete visitare sapete basta che mi chiedete tipo spesso e volentieri mi viene chiesto dell'Hokkaido perché so che è una delle mete più fuori anche interessanti ma io il mio mantra minoni live aspettate che mi libero di un gatto sì l'Hokkaido ma valutate sempre lo Shikoku io ho lasciato il cuore nello Shikoku per cui io ve lo consiglio dovete andare in Shikoku Silvia dice mia cima è fantastica in 10 giorni ho fatto chiotto transito ai miei meji esatto mentre andavo a mia cima a me a vedere l'airone bianco il castello una volta in Ryokan e partenza per Tokyo bella colla sì la colla sì anche il resto del gatto è bello bene questa era la mia prima idea su come organizzare un viaggio chiudiamo con la risposta secondo me alla domanda più classica quanto costa un viaggio in Giappone un viaggio in Giappone in totale se fate un bel viaggio con una buona organizzazione fatta da voi un viaggio può costare con il volo di 10 giorni anche 1000 euro 1200 1300 i miei amici i turisti del tubo sono stati 15 giorni scusate ma il gatto ha preso il sopra scusate il gatto ha preso il sopravvento per 15 giorni sono riusciti a spendere 1000 euro con il volo ma loro sono stati proprio bravi non dico di spendere 1000 euro per 10 giorni 15 giorni però per un viaggio organizzato da voi siete intorno ai credo ai 1500 euro poi c'è tutto come dicevo prima i gadget quello è preparatevi a spendere perché quando arrivate in Giappone c'è di tutto a comprare purtroppo l'unico difetto del Giappone tra virgolette ecco questa è la spesa che potete fare poi ovviamente dipende sempre sempre da voi sempre da quello che volete fare cioè se se non siete in grado o non volete vi rivolgete a un'agenzia ovviamente pagate un po' di più non strappagate il mio consiglio è questo insomma abbiamo appena organizzato io e Claudio con l'appoggio in un'agenzia un buon viaggio dal mio punto di vista interessante ad un prezzo secondo me molto molto onesto seguendo questo stile di viaggio qui per cui non è male ovvio che valutate bene quando vi chiedono cifre esagerate perché cioè un po' ok l'organizzazione un po' i transfert ok la colazione cioè c'è tutta una serie di cose che le agenzie che non conoscono perché ovviamente è più comodo così aggiungono per dar servizi solo servizi ovviamente vengono pagati non sempre però quei servizi dal mio punto di vista sono così necessari per cui la spesa per un viaggio in Giappone 15 giorni se tutto va bene 1500 secondo me è la spesa massima che dormire spostarsi in Giappone arrivarci con l'aereo mangiare musei e tutto quello che vi serve per vivere lì secondo me non è male stiamo parlando ricordatevi sempre del Giappone stiamo parlando di un paese dell'Asia come può essere la Thailandia ma un paese come il Giappone per cui possiamo anche possiamo anche pensare a veramente che sia una di quelle possibilità che in questo momento di valutare perché abbiamo ancora l'euro forte per cui città ha una grande capacità di viaggiare in questo momento Aski Siberiano mi dice poi alla fine non siamo riusciti a beccarci a Tokyo purtroppo no sì sì e mi chiede se ho fatto un buon viaggio sì sì ho fatto un grandissimo buon viaggio lo vedrete prossimamente siamo arrivati all'episodio numero 50 altri 10 episodi e finisce la serie 2016 poi mi prenderò una settimana due di pausa per riorganizzare il 2017 prima possibile bene io vi ringrazio tutti perché questa sera siete stati tantissimi non avrei mai immaginato così tanti e io vi do se non succede nulla di strano l'appuntamento a lunedì prossimo parleremo se in Giappone come organizzare il viaggio ma entreremo nello specifico per sulle grandi città sceglierò credo Tokyo come prima meta parleremo un po' di trasporti che abbiamo già accennato questa sera grazie Aski Siberiano dei trasporti parleremo dei quartieri che io ho visitato di quelli che io ritengo interessanti e quelli che non ritengo interessanti e di qualche cosa di particolare e e anche qui vi racconterò del quartiere in cui ho dormito di Tokyo che non esisteva sulle cartine perché anche lì come sempre il Giappone tende a nascondere le cose che non vuole far vedere e questo però ne parliamo la settimana prossima io vi auguro una buona notte una buona settimana in settimana se tutto va bene esce un nuovo episodio un episodio legato a Tokyo legato a un quartiere conosciuto di Tokyo che è Shimo Kitazawa con un mazzui straordinario che ho trovato per caso per cui io ve lo consiglio di non perdere mi faccio pubblicizzare da solo io vi consiglio di non perdere nessuno dei miei video per cui se non l'avete ancora fatto andate a vedere i video sul mio canale YouTube ci vediamo alla prossima settimana ciao a tutti buonanotte e come sempre grazie per seguirmi ciao ciao